Dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni, Fedez sembra aver trovato una nuova fiamma nella modella francese Garance Othie 2, che si sono conosciuti al Festival del Quakella in California, stanno vivendo la loro relazione in modo spensierato e divertente, come dimostrano le stories pubblicate su Instagram da Garance La storia d'amore tra Fedez e Garance Othie. Il colpo di fulmine al Festival del Quakella La storia d'amore tra Fedez e Garance Othie, sembra essere nata sotto i migliori auspici Due si sono conosciuti al Festival del Quakella in California, dove è scattato immediatamente un colpo di fulmine Da quel momento, Fedez e Garance non si sono più lasciati, e hanno iniziato a frequentarsi sempre più assiduamente Due sono stati paparazzati insieme mano nella mano a Monte Carlo per il Gran Premio di F1, e Garance è stata presente anche nel dietro le quinte della registrazione del video di Sexy Shop, il nuovo singolo di Fedez Ma è sui social network che i due si lasciano andare a dichiarazioni d'amore e a momenti di complicità Garance, in particolare, ha pubblicato su Instagram un video in cui ha raccolto i momenti più belli trascorsi in Italia, accompagnato dalla didascalia, siete pronti per un'estate all'italiana? Un'estate all'insegna dell'amore e dell'Italia? Progetti estivi di Fedez e Garance Otie Dalle stories pubblicate su Instagram da Garance Otie, sembra proprio che i progetti estivi di Fedez e Garance siano quelli di trascorrere insieme l'estate in Italia La modella francese sembra apprezzare molto il bel paese, e ha condiviso con i suoi followers alcuni momenti trascorsi in giro per l'Italia, tra cui una visita a Venezia e una a Positano Anche Fedez, dal canto suo, sembra essere molto legato all'Italia, come dimostra il suo impegno nel sociale e la sua partecipazione a eventi benefici E chissà che l'estate italiana non sia l'occasione per Fedez e Garance di trascorrere del tempo insieme, lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche Fans dei due non possono che essere felici per questa nuova relazione, e sperano che sia l'inizio di un lungo e felice percorso insieme Fedez e Garance sembrano essere molto affiatati, e la loro complicità traspare da ogni foto e video pubblicato sui social network Non resta che augurare loro di trascorrere un'estate all'insegna dell'amore e della spensieratezza magari proprio in Italia, tra le bellezze del nostro paese